Napoli 081, nostro amico Emanuele, ospite speciale, siamo qui dove? Castel Sant'Elmo, inizierà una bella salita. Saliamo? Saliamo! La salita è ancora lunga, Giovanni non ce la fa più, Manu tu? Si entra nell'inferno, stiamo ancora salendo, è finita la salita, perfetto! Anche l'orologio mi suggerisce quanto pare ti stai allenando, perfetto! Ci siamo persi, destra o sinistra? Gianni, non sporgerti troppo che è pericoloso! C'è un sacco di guarniciù! Sì sì, sono pronti a questo spettacolo! Vai vai! C'è un sacco di guarni! È un sacco di giù! Ero il nostro padre che ha avuto. A ora, vabbiamo! il momento doccia e calda l'acqua che piano deve andare io ho l'ultimo qui come si si giure il support guardiamo oh aiuto, ma non lo sai non penseremo questa è la tomba di Martino ci troviamo a San Martino taglia questa scena assolutamente la stazione a San Martino via Marina Assel Maschangiovino dove è il centro storico Spaccanapoli Spaccanapoli sta qua Lascia Maggiore Grazie Com'è Usi Mi Qui potete ammirare il Castel Sant'Eno, il Simul Garenne, zona molto panoramica, dove si vede tutto, anche mia mamma si sta cucinando e niente.